Ciao ragazzi, benvenuti in questo post partita Bayer Leverkusen Milan 1-0 Seconda sconfitta per il Milan Champions League Quindi rimane fermo a 0 punti in questa classifica Girone unico Sono qui con Redondo, Salve Redondo Ciao, ciao Prego, ti lascio la parola Ma che parola, c'è questa partita veramente strana Da che un primo tempo ha meritato per loro Ma nel secondo, sinceramente, meritavamo il pareggio Non capisco l'arbitraggio Oggi purtroppo parlo di arbitro, non parlo del Milan E di solito Redondo non parla mai di arbitraggio No, però oggi l'arbitro ha perso il controllo Il metro di giudizio proprio È andato a farfalle E secondo me ha dato Ci sono stati degli episodi contro Sicuramente contro il Milan Un paio di punizioni che secondo me Dovevamo battere, quantomeno Non ti dico rigori, non ti dico queste cose qui più pesanti Però un paio di punizioni al limite Ci dovevano essere Dei vantaggi dati così Ma non lo so, guarda Solitamente, ripeto, l'arbitro non lo tocco mai Sono sempre partite di calcio Si può sbagliare Però oggi, veramente, il secondo tempo Sembrava Non avesse il fischietto in bocca Non avesse il fischietto Più che altro Quello che fa un po' specie È il metro di giudizio Secondo me è abbastanza diverso Usato in un caso Piuttosto che nell'altro È ovvio che passeremo per piangine Come giusto che sia Però obiettivamente Qualche episodio o dubbio c'è Tipo anche lo step on foot Nei minuti finali Sull'off to cheek Di solito è sempre rigore Ma riguardiamolo al VAR Almeno riguardatelo Almeno riguardatelo Poi magari non lo date Il piede era sulla linea Da quel replay che abbiamo visto E quindi non lo so Sono scettico anch'io Sull'arbitraggio Parlando invece di Milan Primo tempo per me brutto Insufficiente per il Milan Più che altro mi dispiace Che abbia Secondo me rinunciato a giocare Un conto è dire Vabbè Ha rinunciato a giocare Però Comunque in fase difensiva Obiettivamente non ha concesso nulla Invece noi abbiamo concesso Rinunciando a giocare Non facendo mai Un contropiede Poca roba Nel secondo tempo Abbiamo aumentato i giri Abbiamo continuato a concedere Perché oggi MVP Mignan Obiettivamente Mi è piaciuto anche Fufanà E domani Pagelle spietate di Brogna Tra poco reaction Alle parole di Fonseca Sono curioso di vedere Lui come ha visto la partita Perché lui è uno Che dice le cose Come stanno Non so se lui L'ha impostato in questo modo O se la squadra Non ha recepito Le sue indicazioni E quindi è partita Un po' più Timorosa Fatto sta Che come dicevo È stato un peccato Buttare nel cesso Un primo tempo Senza provare a giocare Nel secondo tempo Ci abbiamo provato Ripeto Abbiamo sempre concesso dietro Ma almeno Abbiamo careato in avanti E le occasioni Che ci siamo mangiate Pulunano C'è tantissime Ripeto Anche quello concesse Però con un po' più di cattiveria Con un pizzico di fortuna in più Forse si poteva pareggiare Io credo che abbia spaccato La partita in due L'ingresso Cioè Morata Quando è entrato Morata Ha fatto un po' vedere a tutti La voglia di giocare E come bisognerebbe Giocare in Champions O in generale Alcá Cioè Il pressing Che ha fatto Addirittura stava per segnare Morata sul pressing Del portiere Lì Veramente Un peccato Perché meritava Se noi per esempio Andiamo a guardare le statistiche Cioè La partita Risulta equilibrata E il problema È che noi siamo stati Poco Concludenti Abbiamo avuto anche Poca fortuna Se vogliamo E abbiamo rinunciato A giocare Metà partita E quando si creano Tante occasioni Così Non lo so Non lo so Oggi Un po' Un po' di amaro in bocca C'è C'è Sì Perché sicuramente Sulla carta Il Bayer Leverkusen È più forte Però La squadra Era rodata Dall'anno scorso Esatto Ha vinto il campionato Ha fatto Un grandissimo percorso In Champions In Europa League Però Però Con Con un C'è Come se non ci avessimo Creduto abbastanza Perché ripeto Il secondo tempo È indicativo Di quanto il Milan Potesse fare meglio Nel primo tempo Invece Siamo partiti Impauriti E Alla lunga Abbiamo pagato Questo atteggiamento Poi Tecnicamente Ovvio Che loro ragazzi Due marci in più Nel senso che Grande triangolazione Tacchi Colpi di tacchi Si trovavano Praticamente D'occhi chiusi E noi invece Fatichiamo sempre Con la palla a tre piedi Poi magari domani Nel dettaglio Vi dirò la mia Su ogni Singolo giocatore Nel pagellone Però Per dire L'asse Di destra La bella Si è royale Ragazzi Non vi spoiler Nulla Vi lascio immaginare Ma veramente Mi ha fatto odiare Il calcio Oggi Non si è fatto odiare Lui Mi ha fatto odiare Il calcio A 360 gradi Lento Impacciato Se skills A casa Vabbè Domani ne parleremo Meglio Sì A casaccio Proprio Come ho detto In live Quando tu su FIFA Scopri che con R2 Puoi fare le finte Schiaccia a cazzo E poi la passi dietro Ho visto anche Poca fiducia Nei suoi confronti Anche Secondo tempo Ne abbiamo avute tante Vogliamo ricordare Quella di Reinders Che si è deciso Di stoppare Di suola Di riprendere la palla La suola dopo Tanto quanto Ci stava Secondo me Dovremmo rivederle Perché Non è anche Mezz'ora più l'hanno fatto Però Il passaggio filtrante Per lui Non ricordo neanche Chi lo abbia fatto Però L'ha praticamente Lasciato da solo Davanti alla porta E lui ha stoppato Quella palla lì Permettendo agli avversari Di recuperare Può succedere Ho capito Può succedere Però Sul secondo Ti rismarchi E ti prepari Al tiro Di Oli e Benji Voglio dire Tira una puntazza E tante volte Quante volte Abbiamo invocato Le puntazze da calcetto Quante volte Perché ogni volta Anche Abram Ebram è arrivato lì A dare Tira Perché Anzi ok C'è stato anche Un piccolo fallo Su Abram Però Porca misera Tirate Tirate Perché Tu pensa al tiro Di Di Teo Sul finale Non era magari Resistibile il tiro Però Quella deviazione Aveva spiazzato il portiere Cioè Alla fine Ragazzi Bisogna osare Bisogna tirare A volte È più efficace È un tiro sporco Che è un tiro Fatto per bene Dimostrazione Il tiro di Lofsucic Quando Sul calcio d'angolo Un tiro bomba Perfetto Centrale E quindi inutile Vabbè Sul tiro invece Poi dopo Di Ciucuese Stendo un velo pietoso Va bene Quindi la classifica Ragazzi Giusto per farci male È tremenda Perché C'è questa La Serie A Guardiamo con la Champions League Guida il Borussia Dortmund Per vedere il Milan Con la rotollina del mouse Voi non lo vedete Poi io sto andando Giù 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 E il Milan È al 29esimo posto Sarebbe poi il 36esimo posto Praticamente a 0 punti Con i gol subiti Siamo al 29esimo posto Con 0 punti Fatti ovviamente Prossime partite Non è ancora finita Nel senso che Abbiamo affrontato Le due più forti E le prossime partite In teoria Dovrebbero essere Un attimino E più Quella più importante La prossima Colbrugio ovviamente E poi ci sarà Così Real Madrid Te la butto lì Fuori A Madrid Poi c'è Posso sorridere Il Bratislava Vabbè Poi ci sono tutte le altre Che ancora Forse non c'è il calendario Baia Però E Detto questo ragazzi Serata Amara Ce ne andiamo a letto Con una bella peretta Infilata Non vi dico dove Grazie mille Dottor Redondo Grazie a te Sempre forza mila Nella prossima Ciao ragazzi Ciao